Cittadini che si trovano senza acqua, comportate ridotte all'improvviso, comunicazioni di rotture delle condotte non sempre tempestive. L'approvvigionamento dell'acqua in alcune zone di Pescara, soprattutto Colli e Caseater, sta diventando davvero insopportabile. La conferenza stampa on the road di questa mattina è partita dai gruppi di centro-sinistra al Comune per sollecitare interventi su ACA affinché si regolarizzi la situazione. Alla voce politica si è aggiunta quella degli utenti, alle prese con disagi quotidiani legati alla mancanza o alla riduzione dell'acqua. Sentiamo prima la consigliera comunale Stefania Catalano e poi due cittadini. Tanta insoddisfazione? Molta, molta insoddisfazione perché noi aspettiamo ancora delle risposte, le aspettiamo da più di un anno. Le segnalazioni sono state tantissime perché il problema inizialmente si è rappresentato ai Colli e poi si è steso a macchia d'olio, quindi ha interessato ancora di più questo rione, questa zona, ha interessato anche adesso Porta Nuova, per cui è davvero un'emergenza che non può essere più taciuta perché l'acqua è un bene primario e ne abbiamo diritto tutti. Oggi qui in piazza con questo raduno spontaneo, domani? E domani continueremo, continueremo in comune, inizieremo a presentare interrogazioni e chiederemo ancora di portare avanti delle azioni importanti come quello che appunto mi preme sempre dire, un monitoraggio attento e chiederemo anche che l'ACA risponda, inizia a rispondere nelle sedi opportune e inizia anche a dare delle risposte a tutti quanti i cittadini che manifestano questa necessità. Non abbiamo l'acqua e soprattutto mio marito che torna dal lavoro non può fare una doccia, non possiamo attaccare le lavatrici e poi per riscaldarci non parte proprio lo scaldabagno, praticamente non parte perché non c'è flusso d'acqua, non c'è per niente, ce n'è un filino di acqua. L'ACA non ci dà risposte, non ci dice niente, ogni volta che manca l'acqua, perché noi st'estate siamo stati senza acqua, abbiamo dovuto un filetto filetto ma proprio raccoglierla l'acqua, siamo tornati indietro di anni, raccogliere l'acqua e riscaldare l'acqua. L'autoclave, alcuni dicono perché non vi dotate di autoclave? Perché costa, scusami, qua è tutta una conseguenza, mio marito non lavora più, i soldi non ci sono più perché non si lavora per questa emergenza Covid e l'autoclave noi ci siamo informati privatamente, ma viene tantissimo. Allora queste spese, siccome io pago l'affitto all'Ater, pago fior di quattrini di acqua, di acqua all'ACA, dovrebbero pensarci loro. Grazie. 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 Grazie.